buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 16 maggio 2023 ripeto 16 maggio 2000 scusate 24 23 era l'anno scorso 24 perché una giornata fatidica una giornata attesa da tanto tanto tempo una giornata preparata agognata anche temuta perché veramente oggi il territorio è sotto sopra per l'arrivo del giro d'italia a fano una tappa importante perché arriverà nel cuore della città e attraverserà tantissime vie e noi dedicheremo gran parte della nostra rassegna stampa questa mattina per dare le ultime informazioni e in ordine appunto a questo grande evento che promuoverà fano a livello internazionale ma intanto procediamo come sempre attraverso dal manaco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è un santo vicino a noi si festeggia sant'ubaldo da gubbio protettore degli eugobini visse nel dodicesimo secolo frequentò il monastero di fonte avellana quindi era molto molto vicino anche al nostro territorio e fu vescovo della sua città carica con la quale fu da pacere per diverse sommosse allora gubbio era una città particolarmente insomma non dico violenta ma insomma gli dava gli dava bene ebbene salvò anche gubbio dalla distruzione minacciata dall'imperatore federico barbarossa andando incontro a lui e l'imperatore si meravigliò dell'ardire di questo prelato che osò sfidare appunto il grande il grande impero resse la diocesi ubaldo per 30 anni e fu molto amato e venerato dai suoi concittadini che alla sua morte lo elessero loro patrono questo per quanto riguarda il santo vediamo ora le previsioni del tempo nubi nubi basse sul nostro territorio questa mattina ma il tempo dovrebbe andare in miglioramento anche se qualche piovasco sarà ancora possibile a ridosso dei rilievi i venti sono sostenuti il clima e gradevole sulle coste i venti spireranno da sud est nell'interno da sud sud ovest le temperature 12 la minima 26 la massima ed è la temperatura più alta di tutta la regione Marche il sole è sorto alle 5 41 e tramonterà alle 20 e 26 ebbene i giornali oggi ovviamente non tralasciano la notizia del giro d'italia il resto del carlino ce l'ha in apertura giro d'italia pronti per la volata finale eppure il sindaco seri dagli ultimi ritocchi e lo vediamo qui con il pennello in mano a dipingere una scritta sull'asfalto molte strade sono state asfaltate ma la circolazione è stata già deviata nella tarda serata di ieri e noi abbiamo subito un collegamento per avere l'idea di quello che si sta prontando con marco lonigro che si trova proprio sulla direttura d'arrivo in viale gramsci pronto marco buongiorno massimo si è un giovedì 16 maggio 2024 importante per la città di fano che si appresta a vivere l'arrivo della tappa del giro d'italia appunto oggi è in programma la dodicesima tappa di quella che è una manifestazione importantissima a livello nazionale ma anche mondiale una dodicesima tappa che inizia appunto in mattinata da martin sicuro un territorio della valvibrata in provincia di teramo e terminerà con l'arrivo qui a fano in viale gramsci per gli appassionati di ciclismo alcuni dettagli interessanti si tratta di una tappa che conta una totale di ben 193 chilometri con un dislivello di 2100 metri l'arrivo della giro è previsto qui alle nostre spalle con questa struttura allestita proprio pochissimi istanti fa è previsto per le ore 17 17 e 30 adesso invece scopriamo quello che sarà il percorso che i ciclisti professionisti seguiranno qui a fano nell'intervista a alighiero omiccioli il responsabile organizzativo della tappa che in settimana è stato ospite nei nostri studi allora il percorso lo ripetiamo e come costavi dicendo poco fa veniamo da san costanzo intercettiamo subito il comune di fano all'altezza della realtà delle di tombaccia quella zona la lì poi entriamo nella zona dell'aeroporto quindi fiancheggiamo tutto l'aeroporto passiamo per la zona dei tre ponti dopodiché prendiamo via campanella e subito all'inizio via campanella giriamo a sinistra per la sedicesima strada che è una strada provinciale dentro un territorio comunale e da lì andiamo quindi lo siamo già località bellocchi da lì andiamo giù fino alla prima strada che la percorreremo fino in cima prima e usciremo all'altezza dell'extra la statale Flaminia per essere chiaro alla zona dei campi da tennis giusto per dare anche un'idea visiva del territorio di lì prenderemo a sinistra in direzione Cucurano e da Cucurano poi saliremo quella che già quegli abitanti di Cucurano definiscono lo zoncolano di Cucurano che si chiama via Patuccia questo chilometro e mezzo di salita che ci porterà poi in cima praticamente affiancheggiando e la realtà di tutta la zona di Monte Giove per poi scendere l'altezza della rotatoria di Centinarola dopodiché la faccio un po' lunga ma arriveremo all'altezza della COP del seminario regionale lì gireremo subito a sinistra per poi prendere la zona del Poderino via l'Italia e il cimitero la liscia la strada della liscia da lì subito a destra per incontromano andremo giù sotto il porto il ponte del cavalcavia che ci porta al porto da lì saliremo via le Cesare Battisti quindi fiancheggeremo tutto il mare la zona porto prima il mare poi via le Cesare Battisti risaliremo quindi da lì prenderemo le mura terremo tutte le mura a destra e l'arrivo sarà l'altezza di via le Gramsci diversamente dall'altra volta in maniera totalmente opposta quindi molto vicino all'arco d'Augusto. Ecco allora ecco allora con Alighiero Omiccioli il responsabile organizzativo della tappa abbiamo scoperto quello che è quello che sarà il circuito qui all'interno di Fano il percorso che appunto i ciclisti eseguiranno qui nella città di Fano il Giro d'Italia porta con sé tanto entusiasmo tanto colore ma anche tantissime iniziative collaterali a questo proposito è davvero ricco il programma si parte alle ore 14 dove sfilerà il corteo mascherato del Carnevale di Fano capitanato dalla musica arabita il gruppo storico La Pandolfaccia e poi tanta musica colore è uno spettacolo che vuole portare un messaggio di pace e bellezza il Giro. Poi ovviamente si vive in tutti i quartieri di passaggio sarà infatti una festa in tutta la città grazie alla collaborazione con le associazioni che accoglieranno il passaggio del Giro con diversi allestimenti in rosa. Ora invece passiamo a quelle che sono le informazioni utili si parla di viabilità si parla di un'organizzazione veramente meticolosa e sull'area del tragitto. Vediamo anche grazie all'aiuto della grafica il divieto di sosta con rimozione sarà dalle ore 8.30 fino al completo passaggio della competizione con la chiusura totale al traffico prevista dalle ore 13. Appunto dalle ore 13 verrà limitato l'accesso anche al centro storico in quanto il Giro percorrerà le aree adiacenti. Dunque per riassumere si consiglia di parcheggiare la vettura nelle aree esterne al centro storico e poi raggiungere il punto di interesse a piedi. Per tutte le altre informazioni o per maggiori dettagli vi consiglio di consultare il nostro sito occhioallanotizia.it. E poi l'abbiamo anche detto nel nostro telegiornale di ieri sera il comune di Fano per evitare spiacevoli eventi ha diramato un'ordinanza che vieta l'utilizzo di oggetti in contenitori e contenitori in vetro. Tutto questo ovviamente per la giornata di oggi dalle ore 11 alle 19. E poi chiudiamo invece con alcuni dati curiosi, interessanti perché per questo evento una giornata e che in questo momento passano altri tiri perché la macchina organizzativa si è attivata sin dalle prime luci dell'alba. Quindi chiudiamo con alcuni dati. Saranno circa 180 i varchi chiusi, oltre 2000 i posti auto liberati. Un lavoro importante svolto da circa 140 persone tra Polizia Locale e Protezione Civile. A questo dato però va aggiunto anche il prezioso lavoro dei carabinieri e della Polizia che si occuperanno di sicurezza ma anche di altri servizi. Dunque è tutto pronto per una grande giornata qui a Fano, una grande giornata di sport, in particolare una grande giornata di ciclismo. Vi racconteremo tutto di questa mattinata, di questo pomeriggio nel nostro telegiornale di questa sera. A te Massimo. Benissimo Marco, seguirai senz'altro tutta la vicenda. Noi ti seguiremo ovviamente nei teleschermi di Fano TV ma volevo dirti, vedo che in Viale Gramsci ci sono degli automezzi. La viabilità è chiusa già da ieri sera. Cosa stanno facendo? Stanno dando gli ultimi ritocchi al circuito? Che cosa fanno questi operatori? Allora facciamo così, vi accompagniamo all'interno, ovviamente prestando la massima attenzione con il nostro operatore Stefano Varniesi, vi portiamo all'interno. In questo momento hanno allestito la struttura che farà da arrivo, vedete l'insegna Giro d'Italia, tutto ovviamente in rosa e poi tanti tiri sono passati anche alle nostre spalle durante il collegamento perché si sta preparando quello che è il circuito. Tantissime persone al lavoro, all'opera, vedete anche qui adesso in questo momento un altro tir. Diciamo che il traffico appunto è chiuso, tutto questo ovviamente per favorire le operazioni. Sarà una lunghissima mattinata di lavoro, la macchina organizzativa appunto si è attivata sin dalle prime luci di questa mattina. Non mancano anche i curiosi, abbiamo visto tante persone questa mattina passeggiare in bicicletta, tanti amatori sfilare qui per queste vie curiosi nel fotografare, nel riprendere con un video, con una foto i vari allestimenti. Quindi, insomma, si sta lavorando per una giornata di grande sport, importante per Fano, ma anche ovviamente a livello nazionale. Tutti i controviali di Viale Gramsci sono stati liberati dai parcheggi. Vedi, saranno previste anche delle tribune per assistere alla fase finale oppure la gente potrà disporsi così liberamente? No, allora, attualmente vediamo solamente le consuete transenne, quelle che si vedono anche nelle altre tappe, nelle tappe precedenti, quindi gli appassionati, i curiosi, si posizioneranno sui lati delle strade. Attualmente, dove ci troviamo noi in questo momento, non ci sono tribune, ma possiamo vedere, possiamo inquadrare le consuete transenne che verranno posizionate qui nel corso della mattinata. Sono davvero tante le persone che stanno lavorando a questo evento, a questo arrivo di tappa, qui a Fano, ricordiamo, ma anche in sicuro, Fano, questa è la tappa odierna della Gio d'Italia. Benissimo Marco, grazie per questo collegamento, ci hai dato subito le prime informazioni, è una delle prime, così, notizie che caratterizzeranno questa giornata, poi fino a tarda, a tardo, pomeriggio, per vedere, insomma, le fasi finali del Gio. Ci risentriamo più tardi, grazie, grazie e buon lavoro. A voi. Ed ora prendiamo la nostra rassegna stampa, riprendendo la notizia appunto del Giro d'Italia, vi faccio vedere l'apertura del resto del Carlino. Giro d'Italia pronti per la volata finale, e qui vediamo il Sindaco che intento appunto, come ho detto prima, a dipingere l'asfalto. Vediamo come il Corriere Adriatico riporta la notizia. Il Giro d'Italia attraverso la città, 27 chilometri prima dell'arrivo, il traguardo in Viale 12 Settembre dopo i passaggi a Montegiove, Sassonia, via chiuse dalle 13 alle 18. Il traguardo è un po' tra Viale Gramsci più che in Viale 12 Settembre. Comunque ci sono tutte le iniziative, tutte le prescrizioni che vengono date in occasione di questo giorno. Vediamo ora invece le altre notizie. Sul Corriere Adriatico si parla del polo logistico che trova anche una sponda favorevole. Nel centro-destra è il candidato sindaco Luca Serfilippi che accetta a determinate condizioni queste previsioni, così come aveva fatto Marchegiani che in Consiglio Comunale aveva dato un voto favorevole. Lo sposteremo il polo logistico, non sarà a Lex Zuccherificio, ma potrebbe essere in un'altra zona della città, in modo che questa struttura, questo insieme di aziende possa contribuire allo sviluppo economico di Fano. È stato un po' il succo di un dibattito televisivo, quello che viene posto in evidenza oggi dal Corriere Adriatico. Il candidato del centro-destra si impegna, come fanesi, a ridurre i disagi per i residenti. Insomma, non dovrebbero esserci aziende che creano problemi dal punto di vista dell'impatto ambientale, dal punto di vista delle emissioni sonore, insomma, disagi a chi risiede in quella zona. Vediamo ora un'altra presa di posizione di Luca Serfilippi per quanto riguarda il Santa Croce. Ebbene, Luca Serfilippi ribatte alle dichiarazioni di Minardi, il segretario del Partito Democratico, che aveva posto la sanità tra le priorità del centro-sinistra, in contrasto con la strategia sanitaria messa in atto dalla Giunta regionale, e accusando anche di sponda Luca Serfilippi, che è un consigliere regionale e quindi fa parte della coalizione di centro-destra. Ebbene, per Luca Serfilippi è la sua coalizione che ha salvato l'ospedale Santa Croce, che era in procinto di essere chiuso per la politica attuata dal centro-sinistra. E poi, per quanto riguarda la valorizzazione dell'assistenza sanitaria, mette in evidenza, come il resto ha sempre fatto, l'investimento sulla palazzina delle emergenze e urgenze, oltre 20 milioni, 25 milioni di investimento, e soprattutto anche la realizzazione dell'ospice pediatrico per le cure palliative che dovrebbe sorgere al posto dell'ospedaletto di Via Tazzoli, l'ospedaletto dei bambini. Il centro-destra ha salvato il Santa Croce, lo afferma in questo articolo. Vediamo ora un articolo di cronaca. Picchia con la spranga l'avversario del figlio. A giudizio la violenza è avvenuta a Bellocchi. La vittima chiede 75 mila euro di risarcimento. Ebbene, che cosa è accaduta? È accaduta una zuffa tra padri e figli a colpi di spranga. Un romeno finisce a processo. Il fatto è avvenuto a Bellocchi e risale a settembre del 2020. La scintilla sarebbe scoppiata per uno sguardo di troppo. Un padre e un figlio erano all'interno di un abitacolo, di un'auto. Passa un giovane davanti, dà uno sguardo di troppo. Il padre all'interno della macchina reagisce e nasce la zuffa. E tutto questo è stato rievocato davanti al giudice. E quindi si andrà a giudizio in merito a quanto avvenuto. E poi diamo la notizia più precisa per quanto riguarda la scomparsa dell'ex sindaco Giuliano Giuliani. Sindaco D.C. agli inizi del 1990 ha fatto la spola tra il sindaco Francesco Badarelli, che poi andò in Europa, fu eletto parlamentare europeo, e quindi ci fu il passaggio di consegne tra il Partito Comunista e la democrazia cristiana. Ebbene Giuliani è scomparso a 95 anni, per 45 fu consigliere comunale, fu assessore all'urbanistica ai tempi di quando era sindaco Fabri, e poi di nuovo con Gustavo Mazzoni. Insomma, una lunga carriera di politico, di amministratore. era un urbanista molto molto provetto, molto molto sapiente per quanto riguarda le previsioni del futuro di ampliamento della nostra città, un ampliamento compatibile che Giuliani aveva sempre così auspicato e cercato di realizzare con le sue previsioni urbanistiche. È stato anche un grande avvocato, che insomma ha avuto il plauso di tutti. E qui abbiamo gli articoli che lo ricordano. È morto l'ex sindaco D.C. Giuliani, diede a Fano il profilo urbanistico, soprattutto fece approvare il primo piano regolatore di Fano redatto dall'architetto Piccinato. Addio a Giuliani, primatista della politica sul resto del Carlino, con 45 anni di attività, deteneva il record di consigliere comunale più longevo. Fu avvocato, sindaco e assessore, competenza e passione. Sono le due parole che sintetizzano una vita al servizio della città, quella città che tanto, tanto amava. A lui si devono il PRG Piccinato, l'avvio degli interquartieri e la riapertura del Teatro della Fortuna, rimasto chiuso per 50 anni in seguito ai danni provocati dall'ultima guerra mondiale. Vediamo ancora le notizie che riguardano Fano, pubblicate dal resto del Carlino. Fermato in auto dal nome di un altro, messo peggio di lui. Ebbene, è stato proprio sfortunato un trentenne campano che è stato fermato per un normale controllo dalla polizia. Ebbene, siccome non aveva con sé la patente, ha dato il nome di un altro. Ma guarda caso, quest'altro aveva la patente ritirata, sospesa, quindi è finito ancora più nei guai. E poi aveva anche dei trascorsi, dei trascorsi con sé. Aveva dato delle false generalità, soprattutto anche per aver violato il divieto di soggiorno delle Marche imposto dal Tribunale di Pesaro con un provvedimento precedente. Pensate, non ne ha combinata una, non è riuscito a metterne a segno veramente una. E quindi ha dovuto sottostare al giudizio. Ieri in aula il trentenne ha riferito di essere venuto nel nostro territorio perché doveva incontrare un amico. Però, insomma, il giudice ha confermato l'arresto. Ma però, su richiesta del PM, la misura di divieto di soggiorno delle Marche si è tradotta in una rimessa in libertà. Comunque dovrebbe andare via dalla nostra regione. Una bella festa che si festeggia nei pressi di San Giorgio di Pesaro a San Bailon. Domani è la festa del Patrono, scuole chiuse e fuochi di artificio a terre roveresche. San Pasquale Bailon, protettore dei cuochi e dei pastori, e il santo venerato in un bellissimo santuario immerso nel paesaggio delle colline metauresi. Ed è veramente una bella festa. Il programma delle celebrazioni si vede come tante, tante messe che verranno celebrate. Quella del 16.30 verrà celebrata addirittura dal Vescovo Andreozzi. E poi ci sarà una processione. Al mattino saranno tre le celebrazioni ufficiate dal parroco Monsignor Giacomo Mura. Veniamo a Urbino. A Urbino una nuova lista, la lista centrodestra per Gambini, tra ospedale, viabilità, cultura e turismo. Questi sono i tre, i quattro, anzi capisaldo di questa lista, del programma di questa lista. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Udc fanno quadrato con una formazione a sostegno della coalizione Città Concreta. E sono tutti per Gambini in questo senso. Accademia di Belle Arti, Maria Rosaria Valazzi è presidente. Bella nomina, bel successo ottenuto da questa esperta d'arte che per tanti anni ha redatto e ha valorizzato l'arte della nostra regione. Però abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione e l'abbiamo dato tanto al Giro d'Italia e noi qui ci fermiamo. Continueremo a parlare del Giro nel corso della giornata. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie per l'ascolto e a risu.